ciao allora oggi video acquisti ho fatto qualche piccolo acquisto da fantasy craft mi mancavano fondamentalmente solo delle super duo di un colore che mi avevano chiesto per una creazione da regalare a natale sono andata per prendere quelle poi una cosa tira l'altra e ho preso altre cosine che mi serviranno anche queste per i regali di natale quindi vi faccio vedere che cosa ho preso oggi allora la cosa che ero andata a prendere erano le super duo in questa colorazione è un azzurro molto bello un azzurro tendente un po' al carta da zucchero 25 grammi 4,90 euro credo che il prezzo sia abbastanza buono soprattutto per essere un negozio fisico poi già che c'era l'ho preso in altre colorazioni questo che potrebbe no temevo che sembrasse un azzurro invece il colore si vede così com'è è un bel verde un verde azzurro acqua ecco sempre credo 25 grammi 3,20 euro un prezzo ottimo e il colore è bellissimo per la primavera sarà fantastico poi credo di aver preso da Tintin anche dei rivoli opali opalescenti in un azzurro simile a questo perché l'azzurro verde di Tintin secondo me assomiglia a questo li sto aspettando poi un altro colore molto bello per la primavera sempre di Super Duo 25 grammi sempre 4,90 euro è una crema dorato molto molto delicato poi mi piacciono sempre anche quei colori tutti screziati ma alla fine quando vado a utilizzarli non riesco a farci niente allora stavolta ho detto prendo dei colori singoli e uso quelli poi ho preso allora c'era una promozione che non so se vale solo per oggi con due fil di mezzi cristalli ti regalavano un giornale o uno schema allora io ho preso questi due colori due dimensioni diverse questi sono il classico verde con le sfumature dorate e anche questi li ho presi perché mi arriveranno da Tinting dei Bicono in questa colorazione e quindi li utilizzerò insieme adesso scusate se non mette bene a fuoco ecco questi più grandi e poi questo azzurro con dei riflessi AB più piccolo molto bello è un Tiffany un po' più scuro questo forse si abbina anche con con le Super Duo poi già che c'era ho preso qualcosa di piattine su tasce perché mi servono sempre volevo prenderle su Cadoro ma me l'hanno sconsigliato mi hanno detto che sono troppo morbida allora visto che il prezzo di Fantasy Craft secondo me è buono perché allora complete stavolta complete forse non ne ho prese comunque solitamente costano 2 euro e 10 o 2 euro e 20 quelle semplici 3 metri credo che siano quindi 70 centesimi al metro mi sembra molto buono come prezzo ho preso questo blu questo pezzetto di rosa fucsia che non uso moltissimo perciò mi è andata bene ce n'era un pezzo piccolo perché se no lo sprecherei e poi ho preso l'argento che l'avevo praticamente finito questo costa 3 ore 40 un metro e mezzo l'argento metallizzato poi ho preso allora ho preso un giornale con i mezzi cristalli perché volevo fare questo bracciale che è il bracciale Tiffany colazione da Tiffany è molto bello allora per farlo ho preso gli strass da cucire gli strass da cucire sì nel senso quelli incastonati per intenderci e un pacchettino da 20 costa 2,90 euro questi adesso sono di dimensioni uno da 4 mm uno da 5 mm devo capire quali utilizzare può darsi che vadano benessere gli uni che gli altri e sempre per fare questo bracciale ho preso le drops argentate questi dovrebbero essere 10 grammi credo che questo 10 significhi 10 grammi 2,90 euro e questo è tutto quello che ho preso non ho preso tantissimo perché mi mancavano solo alcune cose poi ho appena fatto un ordine per dei caboscionna e vorrei magari prima di Natale prendere qualcosa su Cadoro perciò ho cercato di trattenermi questo giornale ha dei progetti molto belli c'è questo ciondolo che mi piace tanto il bracciale che vi ho fatto vedere anche questo non è male e poi il sutascio che in questo periodo è la cosa che faccio di più va bene adesso vi saluto magari poi posterò anche caricherò anche un video delle ultime creazioni che ho fatto intanto vi mando un bacio e vi auguro un buon weekend ciao